Lunedì 11 marzo, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo partì dalla Sia Maria per la Galilea. Gesù stesso, infatti, aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi, infatti, erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere e guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse, se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Il funzionario del re gli disse, signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli rispose, va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli, tuo figlio vive. Vuole sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero, ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto, tuo figlio vive. E credete lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Di questo brano evangelico ci possono colpire tante cose. Prima fra tutte è la guarigione di questo bambino ammalato. Ma a me la cosa che più sbalordisce è la fede di quest'uomo. Quest'uomo che di fronte a una frecciata di Gesù, voi non credete se non vedete dei segni, quest'uomo si fida della parola di Gesù. Gesù gli dice semplicemente, va tuo figlio vive. E quell'uomo credete alla parola, ci dice il Vangelo. Quell'uomo crede a quella parola di Gesù e torna a casa sua convinto che quella parola si è compiuta. Mi fa pensare a tutte le parole che noi ascoltiamo ogni giorno. Le parole che diciamo quando conversiamo, le parole che leggiamo, le parole che ascoltiamo, e le parole che diciamo, le parole che scriviamo nelle chat, nei vari social, quante parole? E non so a quale scegliamo di credere. Quali parole accogliamo dentro di noi? Quali parole diventano verità per la nostra vita e nella nostra vita? Quante volte ci siamo incartati nella nostra vita perché abbiamo creduto a delle parole che non erano vere, che non erano impregnate di vita? Qual è la parola che Gesù pone ogni giorno nel tuo cuore, ognuno la sua? Qual è quella parola che ti ha accompagnato da quando sei vivo? Qual è quella parola che per te è casa? Qual è quella parola della scrittura, del Vangelo, che per te è una parola che ti rileggi ogni mattina e che orienta la tua giornata e la tua vita? Per quell'uomo credere a quella parola è significato vedere, ha significato vedere la vita del suo figlio e la fede in Gesù. Vale la pena scegliere una parola che per noi sia significativa, sia vita, sia casa per il nostro cammino quotidiano. Credere alla parola di Gesù e non a quella del nemico che pone sempre il dubbio nella nostra vita di essere sbagliati, fuori luogo, fuori posto, non adatti, non capaci, non all'altezza. La parola di Gesù è sempre una parola di benedizione, una parola che fa vivere. Se non ce l'hai ancora, trovala, perché vale la pena avere una parola che possa orientare ogni giorno del nostro vivere.